Buonasera, buonasera e bentrovati. È un Tg ricco di cronaca. Purtroppo partiamo da Luino, dove la situazione zona careva non accenna a normalizzarsi. Una nuova evacuazione è stata stabilita nel tardo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco. 26 le persone che appunto sono state costrette a lasciare la propria casa da un condominio che dista pochi passi da quel condominio colpito dalla frana del 5 gennaio. E purtroppo, come sapete, non è stata una sola di smottamenti. Se ne sono registrati altri due, il che fa pensare che il rientro a casa di tutte queste persone sia evidentemente lontano dal poter essere garantito. Poi, ancora pompieri protagonisti, questa mattina per un incendio che ha colpito la fonderia di Viale Belforte a Varese. L'allarme è scattato verso le 8.30. 12 vigili del fuoco che si sono rapidamente portati sul posto. A fuoco è andato a una locale, locale per la trasformazione della media tensione, quindi a fianco del nocciolo più importante della fonderia. Quest'ultimo locale è stato infine dichiarato inagibile, però non si registrano feriti. L'incendio è stato domato nel giro di due ore. La cronaca ci richiama anche al cancro dei furti e delle spaccate. Purtroppo ad andarci di mezzo due farmacie, di buggiate e di azzate, colpite all'alba di oggi, intorno alle 5.30. Da ignoti che hanno infranto le vetrine si sono introdotte all'interno per rubare quanto hanno trovato nelle casse. Anche qui nessuno è rimasto ferito, evidentemente però molti danni e soprattutto tanta paura e tanta preoccupazione se ne stanno occupando i carabinieri di azzate. Dopo questa prima pagina di cronaca andiamo alla politica. Il 29 gennaio gli amministratori locali saranno chiamati a votare il nuovo presidente della provincia in campo due candidati. Il servizio. Il commercialista e il veterinario, il cittadino e il valligiano. Il confronto tra Emanuele Antonelli e Marco Magrini, candidati alla presidenza della provincia, rischia di ridursi a una sfidza di comodi stereotipi, a meno che non ci si sforzi di andare oltre l'apparenza e comprendere che ciascuno di loro è portatore di una visione costruttiva, ferme restando le differenze politiche e caratteriali. In comune hanno un'energia ammirevole. Antonelli la dimostra da anni, guidando la città di Bustersizio e l'ente provincia, inanellando impegni e responsabilità senza mai arretare di un passo e muovendosi con agilità rispetto a Fratelli d'Italia, partito di riferimento col quale Antonelli sfoggia lealtà ma non sudditanza, vicinanza politica più che appartenenza, rapporto dialettico, spesso frizzante, mai scontato. Magrini è politicamente disinvolto, il suo passo è più amministrativo che partitico, più pratico che teorico. In provincia siede da molti anni e ha diverse esperienze da sindaco, conosce come le sue tasche la fetta più bella e più povera del Varesotto, quella verde impervia, fatta di borghi e di boschi, di piccole comunità e grandi distanze, ma negli ultimi anni è stato soprattutto l'infaticabile coprotagonista della guerra al Covid. A lui il merito di aver vissuto sul campo la campagna vaccinale, a Malpensa come a Monteviasco, nei grandi hub, come nei piccoli centri. Chiunque vinca, ne siamo certi, lavorerà per il bene di una provincia che la legge del Rio ha penalizzato ma che resta un punto di riferimento istituzionale, attore imprescindibile per voci quali edilizia scolastica, formazione, protezione civile, tutela ambientale, viabilità, beni culturali e per quelle piccole amministrazioni locali le cui richieste, senza villari calcati, resterebbero in ascoltate. Ora ci spostiamo a Buster Sizio, apriamo una breve pagina dedicata al carcere. Il carcere di Buster Sizio è appunto in città ma la maggior parte dei detenuti non è di qui, afferma l'assessore ai servizi sociali Paola Reguzzoni, la quale chiede alle amministrazioni locali dei comuni limitrofi di contribuire a supportare economicamente una rete per il loro reinserimento nella società. Questo appello è lanciato in vista della nomina quale garante dei detenuti prevista tra la fine di questo mese e febbraio. Ma continuiamo a parlare dei detenuti e del carcere di Buster in questo servizio. Qual è il tasso di recidiva a Buster? Francamente le statistiche lasciano molto a desiderare, però in generale possiamo dire che la recidiva è sicuramente molto più bassa quando trattasi di detenuti che hanno avuto delle opportunità appunto lavorative e rieducative. Non soltanto per migliorare la vita delle persone recluse alla casa circondariale, oltre che delle loro famiglie, ma proprio anche per diminuire il tasso di recidiva aumentando le opportunità di reinserimento sociale, il Comune di Buster Sizio promuove tre progetti educativi che vedono la collaborazione di servizi sociali, cooperative sociali e realtà di volontariato. In particolare sarà offerto a loro un servizio di telefono amico, cioè coloro i quali, e non sono pochi, non hanno riferimenti sul territorio, ossia non telefonano, non effettuano colloqui, potranno chiamare telefono amico e una voce, un operatore gli risponderà. E per chiudere la pagina di Buster Sizio andiamo a parlare di arte e culture e di un grandissimo della musica purtroppo scomparso, Franco Battiato ricordato da uno dei suoi musicisti. Con Gianfranco Dada e Filippo Deschieri, rispettivamente gli storici batterista e trasterista di Battiato, altri noti collaboratori vicino al maestro siciliano hanno presenziato alla prima del docufilm Io chi sono del bustocco cantautore Lino Pinna. Tra gli ospiti in un teatro gremito c'erano anche i protagonisti del video, gli attori Marco Leopardi, Paolo Raimondi e Silvia Priori, oltre alla ballerina Elena Vago. Voce della colonna sonora che ha accompagnato l'evento Renato Franklin Band, un commosso Filippo Deschieri, legnanese di origini che per vent'anni ha seguito Battiato nei più importanti concerti, ricorda i più emozionanti. Il concerto di Bagdad e il concerto davanti al Papa, si è emozionato tantissimo alla frase cercare l'uno al di sopra del bene e del male e lì è crollato. Non è riuscito più a cantare, si è fermato, l'orchestra è andata avanti a suonare. Cercare l'uno al di sopra del bene e del male E quando stava male mi sono messo, gli ultimi due o tre anni, mi sono messo a fare questo lavoro che sto portando in giro in tutta Italia, mi chiamo Il padrone della voce, ho rilavorato i suoi brani, partendo dalla sua voce, perché quando ho saputo che non avrebbe mai più cantato non mi è stato bene, la sua voce è miracolosa, veramente, a dir poco miracolosa, e quindi volevo conservarla per l'eternità. L'intervista integrale ad Estrieri e il ricordo di Renato Franchi nella puntata di Arte e Bagando di venerdì solito 55 alle 20.45. E adesso a Gallarate, da ieri sono aperte le iscrizioni all'anno scolastico 23 e 24 e anche il momento più importante per gli studenti delle scuole medie, quello in cui hanno la possibilità di scegliere il proprio indirizzo di studio, diventa motivo di riflessione per gli adulti, soprattutto per gli educatori. È il caso dell'importante appello del dirigente scolastico dell'Isis Ponti di Gallarate, Giuseppe Martino, il quale dice ragazzi non seguite le mode, seguite le vostre inclinazioni e le possibilità concrete che questo territorio vi dà dal punto di vista lavorativo. Ci sembrava giusto riportare queste parole molto pragmatiche del preside dell'Isis. Adesso però restiamo a Gallarate per importanti novità che riguardano il Museo Maga. Tra queste l'accessibilità riservata anche ai portatori di handicap grazie a un bando che ha portato in dote mezzo milione di euro e a seguire una grande mostra che proprio lì sta per approdare. Il Museo Maga di Gallarate diventa più accessibile e inclusivo dopo essersi aggiudicato 500.000 euro dal PNRR grazie ad un bando pubblico vinto in collaborazione con il Comune. Il progetto ha come obiettivo la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei luoghi di cultura, tra gli interventi strutturali. L'area di ingresso verrà modificata, resa ancora più accogliente soprattutto d'estate, l'area esterna, le pensiline o anche l'area di punto informativo per il pubblico. I laboratori didattici che accolgono le classi verranno potenziate, le strutture che servono anche per i pubblici fragili a livello di banchi, di tavoli, di sedute, di servizi igienici. Oltre alle migliorie strutturali sull'edificio verranno organizzate nel triennio 2023-2025 attività per favorire l'accesso ad un pubblico più ampio. Non solo un pubblico colto o abituato a frequentare i musei, ma anche un pubblico che accede per la prima volta che viene accompagnato attraverso dei sistemi informativi semplificati o il pubblico fragile. Saranno affiancati, aiutati, avranno dei supporti sia multimediali ma anche supporti fisici che accompagneranno nella visione delle mostre, della collezione ma anche delle attività culturali che quotidianamente vengono svolte all'interno del museo. Arrivare ottavi su 700 realtà dimostra la validità del progetto presentato. In più 500 mila euro che vanno a supportare e a migliorare tutta la parte di struttura e impiantistica a favore dei soggetti fragili non può che migliorare interamente sia l'edificio che l'offerta che il MAGA e l'IC offrono alla cittadinanza e a tutto il pubblico. Grande fermento al Museo MAGA di Gallarate, le opere della mostra dedicata ad uno dei protagonisti più importanti della pop art mondiale, Andy Warhol, sono già arrivate. Tutto pronto per la mostra di Andy Warhol, settimana prossima inauguriamo, domenica prossima dal 22 la mostra è aperta al pubblico, il museo si sta trasformando, come nella factory, nella celebre factory di Andy Warhol le pareti si stanno coprendo di carta argentata e le opere sono in arrivo, vengono aperte, controllate, vengono realizzate tutti i condition report e sta iniziando tutto il processo di allestimento vero e proprio della mostra. Oltre 200 opere nell'esibizione Andy Warhol, serie Identity, curata da Maurizio Vanni e da Emma Zanella, è visitabile dal 22 gennaio al 18 giugno, i biglietti sono già disponibili. A proposito di cultura vi invitiamo a non perdere a Cassano Valcuvia, lo spettacolo organizzato dal teatro periferico nell'ambito di latitudini è previsto sabato sera alle 21 e ha sostanzialmente al centro dell'attenzione una rilettura in modo interattivo di il diario di Anna Frank, uno dei testi simbolo dell'orrore nazista e della deportazione. Lo spettacolo è diretto da Paola Manfredi e sarà possibile seguirlo anche attraverso il Teatribus, quella navetta che vi accompagna appunto nei teatri che rientrano nel programma Latitudini. Adesso invece diamo il benvenuto al nuovo allenatore della Caronnese Antonio Palo, è stato ufficializzato questo pomeriggio proprio dalla società calcistica, arriva direttamente dal Picerno promossa peraltro in Lega Pro, contro Franciacorta affronterà il suo esordio nella panchina della Caronnese e prende il posto nel giro di poche ore di mister Moretti che proprio oggi è stato esonerato. Era l'ultima notizia del giorno, vi ringrazio per averci seguito e tg torna domani. Buona serata. A tutti una buona serata. Le previsioni per domani, solo in parte soleggiato con passaggio di nubi medio-alte, nuvolosità più spessa in serata ma asciutto o solo qualche piovasco isolato. Lungo le Alpi molte nuvole e nevicate oltre i 1500 metri di quota. Le temperature massime in pianura attorno agli 8-9 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.